Buon pomeriggio. Io oggi ho l'onore qui a Castelnuovo Rangone di introdurre un reading poetico che conferma un sudalizio artistico umano tra due voci di particolare rilievo all'interno della poesia italiana contemporanea. Parlo di Vivian Lamarck e Beatrice Zerbini. Le loro scritture, sempre ben riconoscibili e differenziate, eppure accomunate da trasversalità, ironia incisiva ed empatia, hanno ottenuto un grande seguito, moltissimi riconoscimenti e segni di stima. Basta pensare, per fare qualche esempio, alla vittoria di Vivian Lamarck della prima edizione del premio Strega Poesia, con il libro L'amore da vecchia, edito da Mondadori nel 2022. Oppure pensiamo alle numerose ristampe raggiunte da Beatrice Zerbini, con l'opera d'esordio Incomoderate, poesie d'amore, pubblicata da Interno Poesia nel 2019, e con la raccolta d'amore, pubblicata sempre da Interno Poesia nel 2022, e accompagnata dalla prefazione di Alberto Bertoni. Ma altrettanto importanti sono gli incontri e le collaborazioni cui Vivian Lamarck e Beatrice Zerbini prendono parte, i momenti di condivisione rivolti alle scuole, alle persone fragili e alle donne. I loro versi, infatti, sanno arrivare senza sfarzosi eccessi, non hanno paura di confrontarsi con il ritmo quotidiano delle piccole cose. Infatti, a partire da pezzi piccoli, piccolissimi, costruiscono case in cui possiamo ritrovarci e sorprenderci, nella continua sfida d'amore, di parole leggere come una freccia. Anche per la morte, la ricerca di identità e il bisogno di memoria, ma adesso è arrivato proprio il momento della poesia, e quindi invito sul palco la prima ospite, Beatrice Zerbini. Grazie per l'ascolto. Grazie e buonasera a tutte e a tutti. Vedo che siete in difficoltà per il sole, non so se riusciamo ad accogliervi lì per terra, all'ombra. Ce la fate resistere? Ok. Beatrice Zerbini ha una importante formazione, non solo poetica, ma anche canora, e quindi io vorrei chiederti... Di cantare. No, non di cantare, ma il tuo rapporto, che rapporto c'è tra la tua poesia e la musica, il senso del ritmo. Sì, scusate, devo bere. Allora, sì, io come molte delle persone che ho riconosciuto qui già sanno, ho iniziato a cantare da bambina al Piccolo Coro dell'Antognano, quando avevo quattro anni, e quindi, diciamo, il mio primo approccio con la parola è stato con la parola musicata. Un po' è rimasto questo dentro di me, il ritmo, il fatto di... ma non solo per l'esperienza con il canto, ma anche poi per le mie letture. Io sono un'appassionata di Guido Gozzano, di questo poeta, non so, molti di voi che sono degli abitué del Festival di Poesia, che conosceranno Guido Gozzano, che a scuola si fa poco, purtroppo, ha questo modo molto... diciamo... lui scrive in rima e io ho seguito un pochino la sua traccia, non mi voglio paragonare, non voglio paragonarmi a Gozzano, però la parte musicale che c'è nella mia poesia, ma io non sono una critica, io devo leggere, devo leggere il poesia, vero Vivi? Cosa stiamo aspettando? Subito! Perché sennò mi incarto poi, dopo poi... Leggo subito una poesia? Sì! Allora, facciamo così, vorrei leggervi una poesia che ho scritto per forse... scusatemi eh, ma io non mi sono preparata, non ho avuto tempo, anche tu Vivi, non ce l'hai fatta a prepararti Allora, le mie poesie partono sempre da un'esperienza autobiografica, scusate per le spalle partono sempre da un'esperienza autobiografica e dal mio quotidiano e ho scritto qualche tempo fa una poesia in pausa pranzo per una cassiera della Cop, dove vado a prendere delle zucchine bollite e della bresaola per la mia finta dieta e vorrei partire con questa poesia perché che adesso prenderò dal telefono perché sennò ci mettiamo cent'anni eccola qui perché eh, per me la poesia è questo, deve parlare a tutte e a tutti e la poesia dice così egregio direttore della Cop della piazzetta qui sotto mia ormai decennale compagna e alleata di quotidiane tristi, frugali, pause pranzo per la prima volta nell'intera mia vita senza stizza sento il bisogno di scrivere un reclamo un lamento mi preme tutto l'obbligo come socia cittadina e anche solo come essere vivente di segnalarle la condotta di una sua dipendente si tratta di una bella donna dai capelli neri neri e gli occhi chiari cristallini affilati e sinceri come cocci azzurri di azzurrissimi bicchieri ebbene lei alle tredici e quaranta circa dei miei giorni feriali quando la mia faccia si trascina già stanca in mezzo ai vostri infernali scaffali ha sempre un sorriso una fiamma sul viso gesti leggeri e segretissime malinconie travestite d'allegrie un po' come le mie oggi per esempio mentre apriva atto non dovuto i sacchetti che invece io non so mai aprire con un garbo fra le mani leggere di magia di mestiere che non so neanche dire mentre faceva passare i carciofi lungo il rullo nero tanto somigliante al mio nero nero pensiero mi ha guardata ha sorriso come a darmi un riposo così mi è sembrato allora gliel'ho detto che non c'era una persona in tutte le cop di questo mondo come lei e lei mi ha detto che si commuoveva a dirle così e così ha fatto direttore perché una lacrima le è scesa dalle ciglia le ha tagliato la guancia e poi tutto il sorriso ha provato a fermarla con la mano ma ancora è scivolata lunga dal suo al mio pianto e ancora è precipitata lungo questo lungo reclamo come se non gliel'avesse mai detto nessuno grazie grazie per questa bellissima lettura e ti vorrei chiedere vedo che la tua poesia è molto concreta tocca le tematiche quotidiane in modo diretto e il rapporto a questo toccare con mano le cose c'entra anche la tua anche la tua idea di amore si può ricollegare comunque a un'attenzione per l'altro sì per me allora un po' è una nevrosi il fatto di essere ribaltati non va bene cioè anche l'essere troppo preoccupati o preoccupate di che cosa fa l'altro cioè per esempio ieri mi è capitato una cosa ero al poesia festival al concerto allo spettacolo anzi di Chiara Civello e a un certo punto si sono liberate delle sedie tra le prime file però lo spettacolo era iniziato già da da molto tempo e la persona che era con me a sentire lo spettacolo mi ha detto vuoi spostarti perché io avevo una testa davanti quindi non vedevo niente vuoi spostarti il fatto che gli altri dietro di me si fossero abituati comunque avessero trovato un equilibrio nel corso di questo spettacolo mi ha impedito di spostare sono rimasta tutto il tempo con sta testa davanti perché pensare di rompere le scatole a quelli che già si erano abituati a questa mia testa e si erano già organizzati dietro ma questo è sbagliato è sbagliato come fregarsene delle persone però bisogna anche esistere avere non mi sento così mi piacerebbe essere così proiettata anche in amore lo riconosco come come essenziale pensare all'altro e all'altra non sempre mi viene perché poi ci sono le ferite ci sono c'è il difendersi no? quindi però al mio sguardo adesso facciamo una seduta di psicoterapia io e te qui se vuoi dirmi come ti senti anche tu rispetto però insomma ci vorrebbe una giusta via di mezzo se vuoi leggerci qualche poesia sì ti leggo anche questa ti leggo questa poesia che ho scritto per perché vedevo sempre questa mia vicina di casa che è una poesia a cui sono molto legata perché la persona per cui l'ho scritta non lo saprà mai che l'ho scritta per lei c'era questa signora sulla settantina non so che di un altro palazzo che usciva in continuazione a stendere poi dopo ho capito mi sono fatta tutto un mio film mentale perché una volta ho visto che il marito l'ha seguita che non si parlava non era un uomo molto molto cupo quindi ho pensato questa fa tutto il giorno le lavatrici per stendere perché io magari ne faccio una lei ogni due secondi stendeva mille lavatrici e quindi mi sono ho immaginato che lei volesse uscire di casa per non stare con questo uomo con cui non ha insomma nel periodo del covid me la vedevo sempre davanti finché a un certo punto non l'ho più vista e le ho scritto una poesia che è questa è sparita dalla terrazza la mia vicina sempre triste ricurva sola ma è la regina del palazzo davanti al mio spero non le sia successo niente penso per lei a un ospedale penso a un ricovero improvviso oppure la credo al capezzale di sua madre sarà tornata al sud perché è del sud l'odore che vola oltre la tenda di domenica dalla sua finestra quando cucina forse è solo a letto in casa con il male alla schiena ma non esce da quattro o cinque giorni io l'aspetto e prego che la dimettano che sua madre non stia poi tanto male che la spina dorsale sia più forte di un dolore l'aspetto ardentemente lei non sa che esistiamo grazie grazie ne ho scritto un altro aspetta ti leggo anche qui già che volentieri dopo siamo proprio ossessiva perché perché parlo proprio delle cose che stava stendendo però ci tengo a leggere queste cose perché davvero la mia poesia non vuole cioè la mia poesia è semplicemente un dire qualcosa che io sento dentro che si può dire solo così io non posso dirlo poi non gliene frega niente a nessuno se questa stende non stende però dentro di me si agita qualcosa che comunico solo attraverso la poesia non posso raccontartelo diversamente è quello che provo e quindi però siccome sono una persona che ha bisogno di tirar fuori evidentemente questa è la forma che mi viene da quando ero bambina sul telo a sfondo verde c'è un velliero lo metti ad asciugare con una smorfia in faccia che sa di un'altra giornata uguale alzi le braccia verso il filo come per volare e stendi bene che non cada la vita in casa la tua tristezza la bulia la vanità del mare grazie c'è sempre in un qualche modo una ricerca di equilibrio ma anche il gesto di stendere io la vedevo con questo asciugamano con questo velliero e pensavo proprio anche al fatto che non l'ho mai vista andare via d'estate era sempre lì quindi questo perché anche io sono sempre io non vado mai via perché se no non avrei potuto però tu volevi vedere poesie d'amore lascio libera scelta queste sono delle poesie d'amore comunque il mio sguardo vi leggo una poesia ma la prendo dal telefono perché io le ho avvertite come poesie d'amore comunque sì non nel senso no no certo per me stretto ma in un senso ampio scusate cerco dal telefono perché se no non ce la posso fare allora sto guardando la mia amica dalla regia mi sgrida perché cerco dal telefono sì mi sta sgridando scusate ma e vi leggo questa mi chiedi che cosa ho nel cuore chi e io mi metto a cercare e come posso trovare infinite parole fare inventari ora con le serrande abbassate il tramonto grigio il futuro a chiamarci il mio cuore è un lago e se mi sporgo troppo se mi inabisso non torno più a galla ho un boccaglio che mi tiene alla vita se guardo il fondale che bellezza e che male è tutto così trasparente ci sono le facce dei morti alcune con le bocche spalancate altre con gli occhi sgranati quasi nessuna sorride se non glielo chiedo con la mente ci sono in fondo detriti cerotti a medicare cose che non possono guarire pensa un sasso o un manubrio con una garza attorno chissà quando l'ho persa in quale vita con chi nuotavo c'è un uccellino che non ho salvato mal nato accanto a me caduto c'è quello che non è stato se non in me e che in me vive ancora se mi richiedi chi ho nel cuore mi vergogno a dirtelo e ti spiego che sono tutta dilatata come rinata sciolta nel mondo c'è il fresco dell'acqua che mi bagna tutta e non mi annega dice che ce l'ho fatta c'è la dolcezza della testa reclinata che mi ascolta anche se resto muta perché alla fine non rispondo ci alziamo andiamo e potrei dirti solo che nel cuore adesso ho i tuoi occhi che forse ho deluso tradito con il mio non saper dire sono così belli e liquidi di mesirecordie di barche di bagnanti persino che si tuffano piano d'amore persino che forse hanno già visto tutto grazie veramente molto toccante e mi sembra anche che di fronte al dolore alla mancanza si debba sempre imparare un po' a respirare di nuovo io non ho imparato bene perché quello del lutto e della mancanza è un po' il tema il tema delle mie poesie torna spesso non sono mai troppo allegra ma a tal proposito vi leggo anzi prima vi leggo questo vi leggo questa poesia per dirti un po' come sono messa per la situazione è questa mi fanno male le vite degli altri cincischio anch'io a testa in giù dentro a tutti i raccoglitori di abiti usati e nei cestini dei rifiuti tasto anch'io mi affaccio sullo scarto con perizia riverisco l'immondizia di questo mondo e fanno male tutti i colori i calzettoni dismessi i cartoncini i mozziconi l'unto sulla carta dei grissini di noi umani mi fa male la zampa zoppa dei cani e l'udibrio dei baffi tagliati ai gatti mi fanno male le ali impigliate alle reti e ai fili spinati che male i topi mi fa male la bimba sgridata per strada alla merced dell'umano consorzio la viva e memoranda omigliazione mi fa male mi fa male l'ospedale è un'ambulanza parcheggiata per il fortuito fato di un altro disgraziato mi fa male ogni vecchiezza vecchiume e che male che fa l'ignara giovinezza è una ferita la folla e anche la mia sanguina in cima come un punto inutile di altri malanni soffio via il luridume il terriccio lascio che sgorghi sopra acqua corrente affiotti di convincimenti tornare qui nel piccolo nel respiro metterci il sole metterci che sono viva e per un po' guarire il male del mondo ma il mio no finché non viene una e mi assomiglia e le fa male la mia vita e io sono l'altra quella guarita grazie e prima di appunto volevo leggervi questo per dirvi qual è la situazione del mio stato emotivo e però c'è questa che se la trovo se no mi tocca riguardare dal telefono mi dispiace ma non perché non è che ci siamo preparate vero? no assolutamente confermo buona la prima e quindi il problema è un po' quello aspetta che l'ho trovata trovata? sì perché ho le lenti a contatto non sono abituata ogni tanto se mi vedete far così perché penso di avere gli occhiali ogni tanto se mi tolgo gli occhiali immagilari è perché no ecco perfetto vedi perché per me Vivi alla Marche è stata la mia prima lettura scelta di quando ero bambina è la mia prima poetessa d'amore quindi immaginate anche la mia gioia nel leggere con lei abbiamo letto tante volte insieme spesso ci chiedono a me ogni tanto ti ha chiamato il comune a me mi ha scritto vorrei fare un evento con te la Vivi alla Marche così vabbè perché comunque si vede che c'è un qualcosa entrambi abbiamo forse anche delle ferite simili e anche delle tare elementari particolari e quindi insomma c'è da una parte questa tristezza inconsolabile ma dall'altra la consapevolezza anche di un privilegio che ho solo per il fatto di essere viva e quindi vorrei leggerti questa poesia che dice così ti chiedo scusa se qualche volta non riesco a essere felice eppure ho un piccolo appartamento che raggiungo sui miei piedi e alla fine per la strada trovo quasi sempre da parcheggiare da salutare da sollevare verso una fronda agli occhi da ritagliare un cielo come un sospiro a rendere i miei cani vivono ancora e mi festeggiano come fossi un'altra una brava padrona ho un lavoro non ho mali che io sappia e anche se fosse al momento io sono la prova che non sono mortali ho una speranza un progetto ho coscienza dell'amore adesso ho decenze per non piangermi addosso ho amicizie che mi lasciano da sola alcune volte ma mai quando sto male e il passato mi hanno detto e l'ho imparato non esiste scusa se qualche volta non sono felice mi trascino un vecchio lutto scioccamente ma se solo quelle volte rileggessi cancellerei ti giuro tutto mi stupirei di averlo detto insomma sto male però ci sono anche dei lati positivi insomma questo è io ti chiederei un'ultima poesia sì e pensando stando un po' sul tema del dolore del lutto c'è una poesia che ce l'ho mi ha colpito molto che è proprio una richiesta di non perdere tutto questo lutto il verso non mi tolga tutto il lutto dottoressa allora ve la leggo ma considerate che è la prima di questo libro e i miei libri sono seguono un ordine di di lavoro psicoanalitico quindi diciamo le prime poesie dei miei libri sono una tragedia quindi io non so alla fine del libro non posso essere d'accordo con la poesia che ho scritto all'inizio il dolore non posso far finta che non ci sia però riconosco che cosa è sano e che cosa no visto sto per leggervi una poesia non sana quindi da non ripetere a casa la poesia l'ho scritta dalla psicoterapeuta cioè me la sono appuntata praticamente alla mia seduta e dice così non mi tolga tutto il lutto dottoressa me ne lasci la metà io non voglio che il mio cuore sia sgombro per intero mi lasci la mancanza facce male di notte se non dormo ma se dormo se possibile vorrei non svegliarmi nel buio come se non potessi respirare mi tolga l'impossibile che è che non si possa più ascoltare la sua voce e lo squillo del telefono mai suo quando compio un altro anno e non vorrei mi lasci continuare a guardare fissamente se qualcuno beve il caffè nel vetro e faccia che io pianga sulla torta di riso mi tolga il grido se può la testa che sbatte il nero che fa la fine non mi resta che la mancanza che è e se è il dolore che riempie come un corpo il mio corpo me lo lasci per metà non voglio perdere che ferisca la lama che non taglia dei suoi occhi tolga il lutto che inginocchia che non crede che mi chiude in casa mi lasci che mi facciano male i fiori ma non tutti solo quelli arancioni grazie infinite Beatrice grazie davvero cedo il trono sì adesso accogliamo sul palco Vivian Lamarck aspetta che intanto metto via e ne approfitto anche per dire che i libri sono in vendita al banco e che dopo ci sarà un momento dedicato al firmacopie alla fine del nostro incontro e magari anche se vogliono fare delle domande dopo certo aperto anche a domande grazie Beatrice per tutto grazie a tutti 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 grazie a tutti